Il Museo della Civiltà Contadina è stato allestito nel 1987 nella sede di un antico frantoio sottostante la casa abitata da Carlo Levi tra il 1935 e il 1936, ossia durante gli otto mesi e mezzo di confino da lui passati ad Aliano. Il museo rappresenta una delle attrazioni più importanti del paese, in cui sono esposti oggetti usati dai contadini nelle attività agricole, artigianali e nella vita quotidiana, attrezzi per i lavori dei campi, stoviglie e tegami, lampade, braceri e finimenti. I visitatori possono ritrovare antichi oggetti della vita quotidiana usati in passato dai contadini, strumenti per lavorare la pasta fatta in casa, ferri da stiro, macine e presse per olive, insieme a vecchi telai e utensili per la filatura della lana e arnesi per la cottura dell'argilla. Una sezione particolare è poi dedicata alle maschere apotropaiche in cartapesta e agli strumenti musicali. Infine è da notare la ricostruzione di una tipica camera da letto contadina dove uomini e animali dormivano insieme, sfruttando in altezza l'esiguo spazio.